In questi giorni stiamo inaugurando Via Roma e stiamo facendo una grande festa per salutare questa strada restituita alla città, ai cittadini, ai turisti, al territorio. Lo stiamo facendo con una grande festa di luci e di musica e abbiamo deciso di aprire questa grande festa ogni sera, aprire e chiudere gli spettacoli con Secianto. Secianto, in onore della nostra cultura, delle nostre radici, delle nostre tradizioni, perché Cuneo è una città che ha la sua vita collegata in modo stretto alle sue vallate, le nostre vallate sono le vallate occitane. La cultura citana è la base della nostra cultura e crediamo che dal matrimonio tra Cuneo e le vallate possa nascere davvero qualcosa di buono in termini di valorizzazione del territorio, della cultura, dell'enogastronomia e quindi anche di sviluppo economico e turistico. E quindi vi saluto e chiudo invitando tutta l'Occetania e tutti quanti voi che mi ascoltate a venirci a trovare a Cuneo e a vedere come Cuneo si è fatta bella. Grazie. Grazie. Grazie.